Se stai avendo problemi riguardo alla scheda grafica sul gioco Hunter Dawn, quindi in questo caso tu hai comprato il gioco, provi ad avviarlo e non funziona, oppure ti crasha durante una partita e quindi ti può crashare per via dei vecchi driver o basoliti sulla tua scheda grafica o sul tuo sistema operativo. Quindi in questo caso per aggiornare così la scheda grafica Nvidia possiamo direttamente usare il programma Nvidia App che ci permette di controllare i nostri giochi e di aggiornare i driver, quindi vai su driver, cerchi così il driver da fare, rilasciati il primo di ottobre 2024, questo è l'ultimo driver che hanno rilasciato sulla scheda grafica Nvidia per Drive Game Ready per i giocatori. Driver Studio è per chi usa il computer per lavorare, quindi a te interessa il driver Game Ready, aggiorni qua, scarichi e installi così il driver e poi devi riavviare il sistema. Se invece vuoi fare direttamente un'installazione manuale personalizzata puoi semplicemente usare questo sito qua che ti ho lasciato in descrizione, scegli così la tua scheda grafica, la tua, la inserisci qua, fai trova. Una volta trovato devi poi scaricare questo driver e installarlo manualmente, ovviamente è molto semplice installare così questo driver grafico per la tua scheda grafica e poi devi riavviare il sistema. Ed eccolo qua, primo ottobre, quindi o lo fai direttamente sul programma Nvidia App che ti ho lasciato in descrizione, scarichi e installi la versione beta o lo fai direttamente qua sopra. Io per risolvere i problemi dei driver sulla mia scheda grafica l'ho fatto direttamente qua sopra. Invece per quelli che hanno AMD possono usare il programma AMD Software Adrenaline Edition che è come Nvidia, quindi scarichi e installi e usi il software. Io questo non lo posso installare perché il mio computer non lo sopporta. Una volta fatto puoi semplicemente andare direttamente su gestione dispositivi, tasto destro su start, schede video, la tua scheda grafica, aggiorna driver, cerchi driver nel computer, scegliamo dall'elenco ed eccolo qua il modello, scarichi e installa il software. Una volta fatto, vai direttamente su grafica, impostazioni grafica ed eccolo qua. Aggiungi un app desktop oppure aggiungi app Microsoft Store. Aggiungiamo un app desktop. Vado su questo PC, vado così a prendere il gioco. Vado direttamente qua sopra Windows, vado così a prendere il gioco, faccio aggiungi e non inserisco qua. Prestazioni elevate. La mia scheda grafica RTX 3070. E basta. Oppure ripristine le impostazioni predefinite e fai reimposta. E provi ad avviare il gioco e vedere se non hai più quei problemi di Crash. Mi raccomando, una volta installato il tutto, quindi tutti i driver, riavvia il tuo sistema. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.